Ciao ragazzi, benvenuti con questo nuovissimo video e... boh vado subito al punto, ieri ho pubblicato un video dove faccio la reaction alla canzone di Young e gli ho lanciato una sfida se arrivavo a mille visualizzazioni lo dissavo però appena ho finito di caricare i video mi invento in mente una cosa invece che io che lo disso mi fingo per lui su Omega diciamo che è stato divertente è stata una cosa divertente ci sono ci sono tante ore di video quindi comunque questa è la prima parte quindi non voglio che il video dura tanto quindi vi faccio pubblicherò la prima, la seconda parte la terza parte, la quarta parte e gli altri giorni che sono che finirò di montare però volevo rilasciare la prima parte la prima parte in modo che magari condividevo qualcosa lui sarà incazzato nero perché tantissima gente comunque l'avrà scritto perché appena ho finito di registrare i video mi scrive e mi fa guarda che perché tantissima gente mi ha iniziato a seguire così a scrivere che sono quello di Omega e gli ho detto guarda che non so niente quindi lui comunque sarà la prima volta che vedrà il video sarà curioso vi lascio al video ora andiamo a ascoltare i commenti i commenti degli altri persone che siano americane italiane perché sono difficili perché alcuni erano americani quindi era era un po' difficile parlare in inglese perché il mio inglese fa cagare da sordo quindi vedremo lasciate un like scrivete al canale condividete il video ho messo una canzone su sportify e vorrei che tu lo ascoltasse comunque che ne pensi della mia canzone spacca l'altro è una figa è una canzone molto più ciao hi hey where are you from ma sei sei italiano sì allora sì perché sto parlando in inglese dato non ci siamo neanche riusciti a parlare inizio è per questo ti ho chiesto di ascoltare la mia canzone perché volevo un tuo parere hai capito è questo? sì ho ecco ho tolto le trecine qual è tra le tante? go low adesso è sotto no noi siamo da più tante quindi questo ok c'è la pubblicità oh micia un attimo ci vuole appare ok bella che bella voce grazie è molto figa l'ho scritta un anno fa mi scrivo e ci metto mi piace perché mi piace e allora che ne pensi? è molto bella grazie ciao hey where are you from? Ireland yeah that's cool Italy 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 I dropped my song on Spotify on YouTube so the song is on English it's in English but I'm Italian so I want to I want to English people to listen to it and tell me what the thing about the song can I tell you my my artist name listen to it listen to it and let me know now what do you think about it because I I don't want to spend any money to 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 promote it I want to promote it because there are 50,000 people online now go low the song name is go low go low go low go you find it can you show me yeah so it's good it's good it's me it's me some people some so many people tell me that is not your voice I say it's me because I sound different now what is your opinion for the song really good really good so you can share it yeah hi hi how are you I'm fine you fine thanks where are you from Italy anche io generaliano dimmi comunque sape che sto parlando in inglese perché io posso una cancella in inglese quindi sto sto cercando di condividere una cancella visto che è in inglese comunque è su spotify quindi volevo che la gente l'ascoltasse e mi desse un'opinione ok ti posso dire ai spotify si si io lo ce l'ho tranquillo ti posso dire così l'ascolti si si tranquillissimo aspetta un attimo che ti segno ciao 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 bro allora com'è cosa com'è buona buona si bro comunque di dove sei bergo buono è onesto tu friuli friuli buona ma comunque aspetta una cosa ho droppato un pezzo fresco ho droppato un pezzo fresco su spotify volevo l'opinione della gente vai mando adesso seldo ti dico come mi chiamo la canzone si chiama go low perché è in inglese che ne pensi la jungle la playlist tu si che capisci bro no switch ci sta ci sta dai canta me la canta no bro comunque do 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 apri a prendere il testo vecchio da dove vieni tu io a portanone bro scusa portanone ah e originale ganese gana si comunque io ho fatto ho droppato sto pezzo e non voglio sborsare un centesimo quindi ho detto di sera ci va tantissima gente ma sa come faccio a beccare più gente che cosa devo usare bo io cioè io ho scritto tra le preferenze italia becco solo italiani beh basta ma quanta gente becchi tu eh c'è alcuni li becco anche dieci dieci volte alcuni li becco una volta poi non li becco più basta eh perché c'è becchi poco con l'italia ma io di solito becco preferenze italia e tik tok eh ci sta ci sta ma ti tocca parlare in inglese è una cosa ci sta cosa di solito se tu metti la hashtag tik tok ti tocca parlare in inglese eh lo so perché è più è più internazionale è che c'è più gente se comunque becchi più gente ma comunque bro ti ringrazio per il tuo per il tuo parere e io continuo comunque a spamare un po' di gente vai vai l'ho fatto anch'io grazie bro ciao vai scusa la voglio te lo saluto ma no grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti oh my gosh you guys are twins we're actually not twins we're sisters but you guys literally talk at the exact same time what? ciao no l'ho schippato no l'ho schippato no l'ho schippato ciao, ciao scu, scu scu, scu where you from? Qua, qual è la mia domanda? L'Italia Yes Come dice che sono un'opera in Italia? Ciao You having stuff? Yeah Can I have it? Yeah I read it now Yeah I will follow you Che feroce Anna, ci pieghiamo nel bendo, sopra il booster Anna manda a me Ciao, di dove sei? Va bene, come si chiama? Che patate lo sto scrivendo perché se te lo dico non capisci un cazzo Jungsa Ha? Jungsa La canzone si chiama Gollo L'hai fatto tu? Di Ugo ma spacca Grazie È che adesso faccio una pubblicità È che adesso faccio una pubblicità Ciao Se non capisci Jungsa Su Spotify O su Youtube Se hai pazienza guardo adesso Se sei tranquillo Se sei tranquillo aspetta C'è C'è Aspetta Questa? Ma l'hai fatto tu? Spacca 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 Il canale Comunque ti ringrazio Boy Grande Continua Bello Bella Io vado avanti a spamare Vai 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 Bella Per Top Ho Sì In 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 Spacca Spacca Si Sì Eh listen 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 my song that I put on Spotify and let me know how do you think yeah okay mm-hmm yeah this is my name on Spotify let me write you a message on snapchat so I can remember who are you yeah okay and listen to your song later okay then let me know what do you think about the song yo what's your shirt say after school detention what ASD yes D your your sweatshirt ah it's from oh hey hey where are you from North Carolina yeah cool where were you from Italy so do you have Spotify a a a a rap in on a a rap my son is on America that my song is English but I'm Italian so I want people to listen to it and tell me what they think about it it's on Spotify yeah can I tell you the name yeah yeah I'm gonna look it up the song name is go low and that there are my young it's on Spotify go low is that you yeah take off your beanie I take off that they heard them say it in you sound like KSI so do you like it you like it yeah is that you I don't think that's they don't look like you I know I know I don't know man so you share it with your friend like it's cool it's cool I know it's cool yeah I'll put it on my story I'll be like yo young Sappho just sent me his song y'all go hit it up all right man I'll catch you later man yeah I'll be the club I'll be the car the whole little bangs how many flows I'm